1. Quante persone vengono? 2. Quante torte vuoi? 3. Quanto tempo abbiamo? 4. Quanti siete in tutto? 5. Quante scarpe avete? 6. Quanti gatti avete? 7. Chi ha chiamato? 8. Chi sono? 9. Chi siete? 10. Chi viene? 11. Quali hai scelto? 12. Quali ti piacerebbero? 28. 26. 25. 27. 27. 28. 25. 25.